Arrestato un adolescente palestinese sospettato di essere l'aggressore che domenica avrebbe accoltellato e ucciso una donna israeliana in una colonia ebraica in Cisgiordania. Le forze armate hanno rilasciato un video che mostrerebbe in momenti precedenti la cattura. Senza attendere la conclusione dell'inchiesta, il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che la casa del sospettato sarà distrutta e che i suoi familiari saranno deportati a Gaza. L'omicidio dell'infermiera 38enne Daphna Mayer, di cui si sono appena celebrate le esequie, ha suscitato particolare sdegno in quanto avvenuto davanti agli occhi di alcuni dei suoi sei figli. Per prevenire nuovi attacchi contro i coloni, Israele ha temporaneamente chiuso l'accesso agli insediamenti a migliaia di lavoratori palestinesi. Ma la violenza che da mesi imperversa nella regione non accenna a placarsi. Lunedì un palestinese di 17 anni ha accoltellato una donna israeliana incinta prima di essere ferito e arrestato dai militari.